Una sconfitta che ha scompaginato i piani salvezza della Virtus Lanciano, già diventati più complicati dopo la stangata della penalizzazione. La bella reazione di Cagliari con tanto di pareggio aveva fatto ben presagire in vista della gara di sabato scorso, nella quale invece tutto è andato storto. Il rigore con espulsione di Amenta dopo 11 minuti ha segnato le sorti del match. La beffa poi è che nei minuti finali molti calciatori irpini avevano i crampi, quelli della Virtus nonostante gli sforzi doppi. No, e questo aumenta il rammarico perché di fronte la Virtus aveva un avellino in crisi di risultati ed anche in cerottato. Una partita che lascia scorie che vanno al di là di risultato e classifica, visto lo scontro verbale nell'immediato dopogara, avuto da un drappello di supporters rostoneri con i vertici societari Valentina e Guglielmo Maio. Tensioni che non facilitano il finale di una stagione che la Virtus aveva saputo sovvertire in positivo dopo la crisi di gennaio. Ancora una volta Maragliulo dovrà essere bravo a isolare il gruppo da queste dinamiche e tenerlo concentrato su un finale di stagione molto difficile, ma la strada verso la salvezza, per quanto sia divenuta più tortuosa, è ancora praticabile. In attesa del verdetto della Corte federale d'Appello, la speranza Virtus è di riavere almeno un punto, vincendo le ultime tre partite la salvezza sarebbe realtà. Nell'ipotesi che non venga fatto il pieno, la Virtus per sperare non può scendere sotto i sei punti, un bottino che aprirebbe a più scenari, salvezza diretta o più probabilmente play-out. Pescara all'Adriatico, Ternana e trasferta a Livorno, questo è il calendario della Virtus che può anche sperare nelle grandi difficoltà del Latina e nel calendario complicato del Modena. Il pareggio di Cagliari ha ridato vitalità a Livorno, così che la gara dell'ultima giornata, l'Ardenza, dovrebbe avere un peso specifico notevole sull'epilogo finale. Domenica intanto c'è il Pescara, gara che contiene una componente emotiva in più, perché è un derby. Non ci sarà a Menta, squalificato? Toccherà di nuovo a Rigione? Da valutare le condizioni di Ferrari, uscito anzitempo sabato scorso per un risentimento muscolare. Sul fronte biglietti, riservati 733 tagliande ai tifosi lancianesi all'interno del settore ospiti. In caso di ottima prevendita, nella riunione del GOS, sarà presa in considerazione l'ipotesi di assegnazione dell'intera curva su dai tifosi rossoneri.